Salve a tutti, siamo oggi con due dei founder di Waddi. Salve ragazzi, cos'è Waddi? Allora, Waddi è un'applicazione che ti permette di proporre o partecipare a delle attività intorno a te, come ad esempio se hai voglia di andare al cinema, ma non hai nessuno con chi andare, puoi proporre su Waddi vorrei andare al cinema e qualcuno ti contatterà per farti compagnia. E come funziona allo specifico la vostra applicazione? Funziona in modo geolocalizzato, ovvero tutte le persone che si trovano in un raggio di azione vicino alla tua posizione possono mettere delle proposte di fare qualsiasi cosa e tu ovviamente puoi rispondere oppure provocare la tua attività. Inoltre c'è anche una funzione di community in cui ogni persona può esprimere i propri pensieri o scrivere qualunque cosa gli passi per la testa. Allora, l'app è multi piattaforma, al momento siamo in fase di beta per quanto riguarda Android, mentre per le altre piattaforme, in particolare per Windows Phone e iOS, l'app verrà rilasciata al breve. L'app quindi è appena entrata in fase di beta ed è possibile scaricata dal Play Store accettando di diventare quindi tester. Capito. E da dove è possibile scaricarla? Attraverso il nostro sito, guardiapp.com, è possibile trovare un link diretto al Play Store dalla quale è possibile scaricarla e quindi provarla e partecipare all'attività con le persone che ti sono tolto. Va bene ragazzi, grazie, metteremo in descrizione il link al vostro sito per poter scaricare l'app. Grazie a te, grazie a te.